benvenuti a meteo giuliaci.it dopo domani domenica 5 febbraio bello al nord e sulla toscana ma con eccezionale gelate di notte al primo mattino nubi invece al centro sud e con pioggia al sud e soprattutto nevicate anche lungo le coste sulle regioni del medio adriatico il tutto per un vortice di bassa pressione che seguita a insistere sull'italia centrale ma vediamo la mappa del satellite vedete le nuvole che ricoprono le regioni centrali meridionali e quelle di nord est che tempo allora farà domenica bello sulle regioni di nord ovest e toscana nevicate anche lungo le coste su marche abruzzo e molise nevicate fino a quote molto basse sui rilievi laziali campani lucani nevicate anche nel foggiano alto piano della sila zone interne delle isole maggiori per quanto riguarda le temperature minime attenzione vedete valori eccezionali sul nord italia quasi ovunque inferiore a 10 gradi sotto zero bene termino qui vi ringrazio per l'ascolto ancora un buongiorno